ciao a tutti allora fra pochi giorni dovrebbero riaprire cinema e riapriranno fortunatamente anche le università il mio augurio per quel che riguarda il cinema è che la gente ci possa piano piano tornare sempre più numerosa ovviamente dobbiamo tenere presente che all'inizio un po di diffidenza ci sarà per forza però se i numeri ci aiutano i numeri dei contagi che diminuiscono i numeri dei morti e continui che diminuiscono beh insomma la gente avrà sempre più coraggio noi non possiamo far a meno della sala cinematografica perché la sala cinematografica è il tempio dell'immagine la sala cinematografica il centro dell'aggregazione e della condivisione dalle persone quindi dobbiamo sempre sperare che venga sempre conservata e mantenuta nel migliore dei modi una sala cinematografica e sempre meno ne vengano chiuse ecco ne abbiamo visti tantissimi di film in televisione su piattaforme cioè in questo periodo che insomma dovrebbe tornare la voglia di di andare al cinema a vedere un'immagine in grande un film in grande ascoltato bene e sempre con la con questa silenziosa compartecipazione sia un film drammatico oppure con le risate degli altri che ti stanno accanto è molto molto importante io sarò sempre in prima fila per difendere sempre il cinema nella sala riapriranno anche l'università come ho detto prima e quindi vi faccio gli auguri a voi di foggia all'università di foggia al rettore che mi sembra che sia il più giovane rettore di università d'italia e non posso non ricordare mio padre che nel 2003 ha ricevuto proprio a foggia una laurea honoris causa che mi ricordo che lo fece veramente felice era accompagnato da il suo miglior allievo che erausebio ciccotti che oggi è professore di storia critica del film a foggia e quindi sono particolarmente contento quindi vi auguro tutto il bene possibile vi abbraccio con affetto e spero di farvi vedere quanto prima il mio film girato appunto nella vostra meravigliosa regione anche se l'ho girato un pochino giù però magari una prossima volta vengo un po più su e speriamo verso natale o i primi di gennaio massimo se no ricorreremo alle piattaforme che dobbiamo fare però auguriamoci che i numeri vadano a calare perché questo sarà il segno principale che forse ce la stiamo finalmente facendo viva il cinema e viva la sala cinematografica e viva anche l'università un bacione a tutti